Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. A Calatabbiano, all'Istituto Maccherione, si è svolto un importante incontro con Franco Perlasca, che ha raccontato la storia di suo padre, Giorgio Perlasca, che ha salvato oltre 5.000 ebrei ungheresi dalla furia nazista. Per noi a questo incontro c'era Mauro Romano. Franco Perlasca oggi all'Istituto Comprensivo Maccherione di Calatabbiano. Ecco, che cosa ha raccontato ai ragazzi di questo istituto, lei che è il figlio di Giorgio Perlasca, che ha salvato tanti ebrei ungheresi? Beh, certamente noi raccontiamo, mia moglie e io, la storia di Giorgio Perlasca. È una storia incredibile, obiettivamente, perché è la storia di una persona qualunque, non aveva nessun tipo di potere, non comandava niente, era un semplice commerciante di carne, che a un certo punto della propria vita vede quello che sta avvenendo in Ungheria, non si volta dall'altra parte e cerca di fare qualcosa e si inventa un ruolo non suo, quello di diplomatico spagnolo. In questa maniera riesce a salvare almeno 5.200 ungheresi di religione ebraica. Perché cerchiamo sempre di raccontare questa storia? Perché la storia, proprio come dicevo prima, di una persona qualunque, qualsiasi ragazzo si può immedicimare in questa vicenda e può anche pensare di poterlo fare tranquillamente. Perché è la dimostrazione provata, oserei dire, che ognuno di noi può decidere cosa fare della propria vita, se vuol dire un sì o se vuol dire un no. Ed è importante, penso, per l'educazione dei ragazzi. Cosa ricorda di suo padre? La seconda parte della sua vita, io ricordo, è ciò che non mi disse assolutamente niente di questa storia. Ed è anche una grande bellezza di questa storia, obiettivamente. Per un po' di tempo io non riuscì a capire, anzi non apprezzai questo fatto, che non mi avesse raccontato niente. Poi riuscì a comprendere il perché e anche apprezzarlo. Qual è il messaggio che nasce dalla storia di suo padre per i ragazzi? Un messaggio, oserei dire, molto semplice. Fare del bene senza aspettare di avere qualcosa in cambio, obiettivamente. Anche alla luce del suo testamento spirituale è lasciato proprio ai ragazzi. Che è una frase, una frase che disse un giornalista Giovanni Minoni, che lo intervistava, e che gli chiese perché bisogna ricordare questa storia. Lui rispose in maniera molto semplice, direi, che oserei dire. Io vorrei che specialmente i ragazzi si interessassero a questa mia vicenda unicamente per pensare oltre a quello che è successo, a quello che potrebbe succedere e opporsi eventualmente a violenza del genere, se mai dovessero ripetersi. Intervistato da Mauro Romano, Cateno De Luca ha parlato delle strategie di Sud Chiama Nord in vista delle elezioni europee. Allora sentiamo il sindaco di Taormina. Sindaco De Luca è il leader di Sud Chiama Nord, ma allora bisognerà votare PD per fare eleggere un suo rappresentante? Noi abbiamo lanciato un appello alle forze di opposizione del governo Schifani in relazione a quello che è il lavoro di intesa che stiamo portando avanti in ambito nazionale con Calenda ed altri. Questo elemento di creare un raggruppamento che comprenda anche il brand Sud Chiama Nord come termine temporale è il 31 di gennaio. Nel frattempo, considerato il buon lavoro che abbiamo fatto per quanto riguarda la legge di stabilità con 5 stelle e PD, ho detto chiaramente alla luce del sole, guardate se questo ragionamento non si riesce a concretizzare e ritenete che questo lavoro che abbiamo fatto possa essere portato avanti anche per altre fasi, vi chiediamo di darci la possibilità di ospitare il nostro candidato. Qui c'è stata già la risposta da parte del PD, del gruppo parlamentare del PD, si è creato già un dibattito, noi diciamo chiaramente che il nostro desiderio è quello di poter dare un'indicazione ai nostri elettori, come nel 2019 quando ero sindaco di Messina abbiamo posto una candidata all'interno di Forza Italia che ha portato 40 mila voti e ci ha consentito di avere la legge per quanto riguarda il risanamento della città di Messina. Siamo molto pragmatici e soprattutto siamo chiari, quando si tratta di una competizione le forze politiche hanno il dovere di dare delle indicazioni, oggi se accetterà il PD di ospitarci in quanto magari salta questo ragionamento con Calenda o se 5 Stelle batterà un colpo, perché noi abbiamo lanciato questa richiesta a tutti, significa che c'è realmente la volontà di portare avanti nel costruire comunque un'alternativa al governo delle destre, sia in Sicilia che arrivare a questo punto anche a livello nazionale. La cronaca partendo da Racusa dove i carabinieri hanno tratto in arresto un giovane guineano dopo aver tentato di rapire un neonato strappandolo dalle braccia della madre. Un 22enne guineano è stato arrestato dai carabinieri di Racusa dopo aver tentato di rapire un bambino di tre mesi strappandolo dalle braccia della madre. Il fatto è accaduto nei pressi del centro vaccinale di Racusa quando il giovane ha tentato di prendere il piccolo a una 22enne di origini albanesi. La donna, in compagnia del marito che accompagnava l'altra figlia di tre anni, ha opposto un'istintiva resistenza. A quel punto, prima l'intervento del padre del bimbo e successivamente di due agenti di polizia passati per caso e allertati da alcuni passanti, hanno impedito che accadesse il peggio. Quindi l'arrivo dei carabinieri, che hanno proceduto al fermo del 22enne, condotto poi nel carcere di Racusa con l'accusa di sequestro di persona aggravato. I militari dell'arma hanno interrogato alcuni testimoni. Un arresto anche a Trapani. Si tratta di un imprenditore accusato di truffa aggravata, fittizia intestazione e autoriciclaggio. Per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare emessa dall'ufficio GIP del Tribunale del Capoluogo nei confronti di tre imprenditori trapanesi e uno palermitano, indagati, a vario titolo, per i reati di truffa aggravata, fittizia intestazione, autoriciclaggio e violazioni della normativa inerente ai subappalti. Al centro delle indagini, condotte dai carabinieri sotto la direzione della Procura di Trapani, figurerebbe l'attività di un imprenditore 46enne del luogo già coinvolto nel processo scrigno del 2019, che mediante aziende operanti nel settore edile e agricolo fittiziamente intestate alla propria moglie e con la connivenza di imprenditori trapanesi e palermitani, eseguiva nelle isole Egadi, in violazione della normativa del subappalto, lavori pubblici di manutenzione che erano stati aggiudicati ad altre aziende del settore. Nel corso delle investigazioni sarebbe inoltre emerso che i proventi delle attività delittuose sarebbero stati reimpiegati e reinvestiti per acquistare beni immobili e automezzi. L'uomo è stato quindi sottoposto al regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre alla moglie è stato irrogato il divieto di dimora. Inoltre, nei confronti dell'arrestato, è stato disposto il sequestro preventivo delle ditte e dei beni a lui riconducibili, nonché della somma di circa 100 mila euro quale provento dei lavori eseguiti in subappalto. Servizio antidroga da parte della Polizia a Siracusa. Il bilancio parla di un pusher tratto in arresto, un'altra persona denunciata e poi due assuntori di stupefacenti segnalati. Agenti delle volanti in servizio di controllo del territorio transitando per via Santi Amato hanno notato alcune persone che tenevano atteggiamenti riconducibili a un'attività di cessione di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno quindi deciso di intervenire effettuando, nei confronti di un 43enne, una perquisizione personale estesa poi anche alla sua abitazione. Le operazioni di polizia giudiziaria hanno consentito di sequestrare, a carico del soggetto, 14 dosi di cocaina e 6 dosi di crack, oltre a una cartuccia per pistola calibro 7,65 e oggetti in argento della cui provenienza il 43enne non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione. Il pusher, già noto alle forze di polizia, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio per possesso abusivo di munizioni e per ricettazione. Inoltre, nell'ambito del medesimo contesto operativo, è stato denunciato per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio un giovane di 23 anni e segnalato all'autorità amministrativa competente un altro di 24 anni, quest'ultimo trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Infine, agenti del commissariato di Lentini hanno segnalato all'autorità amministrativa un 27enne trovato in possesso di una modica quantità di cocaina. Restiamo nel Siracusano, in questo caso la notizia arriva da Rosolini, dove i carabinieri hanno tratto in arresto una donna di 27 anni che evasa dai domiciliari per due volte nella stessa giornata. I carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa negli ultimi giorni hanno intensificato i servizi straordinari e coordinati a largo raggio sul territorio, anche grazie al rinforzo delle squadre della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia. I militari dell'arma della stazione di Rosolini, con l'ausilio di pattuglie della CIO, hanno tratto in arresto una 27enne per evasione dai domiciliari. La donna era stata posta proprio ai domiciliari poiché gravemente indiziata per un furto commesso lo scorso settembre a Palermo, ma è risultata assente al controllo dei carabinieri che l'hanno successivamente rintracciata per le vie del centro urbano e denunciata per evasione. Nonostante ciò, nella stessa giornata è stata nuovamente sorpresa in giro per la città. In questa circostanza, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stata tratta in arresto e, dopo le formalità di rito, ricondotta ai domiciliari presso la sua abitazione. Nell'ambito dell'attività di controllo, è stato segnalato un giovane ventenne alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sono state identificate circa 50 persone, controllati 30 veicoli e combinate diverse sanzioni amministrative. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni con il supporto dei contingenti di rinforzo dell'arma su tutto il territorio della provincia Aretusea. Un 51enne è stato invece denunciato dalla Polizia a Catania. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di autorubate, arnesi atti allo scasso, centraline e non solo. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nel corso delle attività di controllo del territorio, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando in via Palermo, hanno notato un uomo scendere da un'auto parcheggiata e allontanarsi rapidamente, dando l'impressione di volersi sottrarre a un eventuale controllo da parte dei poliziotti. Gli operatori, insospettiti, l'hanno quindi rincorso e una volta raggiunto l'hanno fermato e sottoposto a controllo, identificato e risultato essere un 51enne pregiudicato catanese. Durante il controllo si è mostrato insofferente e nervoso e così gli agenti hanno deciso di eseguire una perquisizione anche del veicolo. All'interno dell'autovettura i poliziotti hanno trovato quattro centraline per motore e numerosi arnesi atti allo scasso, nonché le chiavi di un'altra auto. Gli accertamenti eseguiti sulla targa e sul telaio hanno inoltre consentito di accertare che le targhe apposte erano riferibili a un altro veicolo e che l'auto era di provenienza furtiva. Gli operatori hanno poi verificato che le chiavi trovate all'interno dell'automobile nel corso della perquisizione erano quelle di un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze. Anche in questo caso gli accertamenti effettuati hanno permesso di verificare che era stata rubata e le targhe appartenevano a un altro veicolo. A questo punto i poliziotti hanno esteso i controlli a un'altra automobile parcheggiata nelle vicinanze con targhe bulgare, riscontrando che era stata radiata dalla circolazione e le targhe appartenevano a un altro veicolo. Le targhe delle tre autovetture sono state sequestrate, così come uno dei veicoli sul quale sono in corso ulteriori accertamenti. Le altre due automobili sono state invece restituite ai legittimi proprietari. Al termine delle attività di rito, il 51enne è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 4.000 prodotti elettronici falsi e denunciato un negoziante. A Palermo i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano hanno sottoposto a sequestro 4.524 articoli per elettronica presumibilmente contraffatti rinvenuti all'interno di un esercizio commerciale e operante nel settore della rivendita di prodotti di tecnologia. L'attività condotta dalle fiamme gialle ha consentito di individuare numerosi prodotti riconducibili a noti brand di telefonia, pile elettriche e pendrive che per fattezza e qualità non risulterebbero realizzati dai marchi di fabbrica presenti sulle custodie. Inoltre, su esplicita richiesta dei militari operanti, l'esercente non sarebbe stato in grado di esibire alcuna documentazione relativa all'acquisto della citata merce che ne potesse attestare la regolarità o la legittima provenienza. I finanzieri, pertanto, hanno provveduto a segnalare alla locale procura della Repubblica il titolare dell'esercizio commerciale per aver introdotto nel territorio nazionale e successivamente posto in commercio prodotti con segni falsi. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie a tutti.